Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi insegneremo la testa di Delfino. Venite a vedere come sembra un Delfino. Ecco, D di Delfino! E ora andremo a fare le sillapetite! E adesso andiamo a scrivere la nostra lettera D! E le nostre cinque vocali! A E I O U Da D Di Do Do De più A uguale da De più N uguale D E Da più A uguale D Da più A uguale D Da più A uguale D Do Da più A uguale D Da più A uguale D E ora, visto che siete diventati bravissimi, vi scriverò dieci parole con queste sillabe! E Ecco le nostre dieci paroline con le sillabe di D! Adesso voi mi dite se si trovano all'inizio e in mezzo alla fine della parola! Dado Dado Dodo Dodo Dono Dama Dama Nodo Ridere Cerville Medusa Medusa Idea Lunedì E ora rileggete da soli! E ora ditemi cosa devo cerchiare di rosso! Bravissimi, qui tutti e due! Bravi, anche qui tutti e due, è la stessa sillaba, qui invece, bravissimi, qui, è all'inizio, e qui invece, bravissimi, all'inizio, ancora all'inizio. Invece qui, alla fine, bravi, qui, bravissimi, in mezzo! Invece qui, siete bravissimi, è anche qui in mezzo! Invece qui, è la seconda sillaba! La sillaba, sentite com'è? I, D, A! E quindi, la sillaba è in mezzo! Qui, invece, è la sillaba di D, bravissimi, alla fine! Invece qui, l'ultima parola, all'inizio! E ora facciamo un piccolo dettatino insieme! Invece qui, l'ultima parola, all'ultima parola, all'ultima parola, all'ultima parola! Sui! Rami! Ricordatevi sempre il punto! Alla fine della frase! Bene, bambini, il video di oggi finisce qui! Siete stati sempre molto bravi e ci vediamo al prossimo video! Ciao!